Tamari, Kuzu, non sai cosa sono? E allora devi provare uno dei corsi di cucina di Sonia, che non è un corso, è un percorso di consapevolezza verso una cucina piena di energia e di armonia. Sonia perché è stata una bella esperienza, ho imparato a cucinare ricette gustose, con gioia, e a organizzare la mia dispensa, in modo tale da avere le mie basi pronte durante la settimana, quando la sera anche uno arriva tardi dal lavoro e vuol mettere su una bella zuppa. Il corso di cucina naturale con Sonia Vellere ha un ingrediente in più, la sua passione nel trasmettere quest'arte che è straordinaria e che coinvolge poi tutta la famiglia. Grazie di cuore. Nella videoconferenza con Sonia mi sono trovata molto bene, di ottima qualità, lei è molto organizzata nel far vedere il piano alimentare e è stato un'ora piacevole che ripasterei molto volentieri. Il corso mi è piaciuto molto, grazie a te ho imparato a rendere più accattivanti i miei piatti per le persone che magari non sono macrobiotiche, poi mi hai stupito con le essenze di cui non sapevo niente e pensavo di aver già fatto abbastanza, insomma mi è piaciuto molto. Buongiorno a tutti, mi chiamo Virginia e ho seguito in questi ultimi quattro sabati il corso di Sonia Vellere sull'organizzazione della cucina. È stato molto molto interessante perché utilizzare una cucina naturale a volte richiede tanto tempo e un po' di preparazione e lei ci ha aiutato in maniera pratica a capire come fare per risparmiare tempo e avere comunque dei prodotti naturali e sani sempre a disposizione. Questo per una mamma è molto importante, visto che oggi gli impegni sono veramente tanti e quindi la ringrazio in maniera particolare. Il corso mi è sembrato veramente interessante e ricco di contenuti. Grazie Sonia. Video molto interessante anche se non ho potuto partecipare in diretta per motivi di lavoro ma le registrazioni top. Alla prossima, ciao! Buongiorno, ho appena finito il corso di Sonia Cucina Consapevole e lo consiglio a tutti perché è ben strutturato, Sonia è molto disponibile, tiene conto delle esigenze alimentari di tutta la famiglia ed inoltre puoi mettere in pratica subito tutti i consigli che lei ti ha dato. Approvato al 100%, brava Sonia, grazie! Ho partecipato al corso condotto da Sonia sull'organizzarsi in cucina e sui vari stili di cottura e devo dire che per me è stato illuminante perché un po' per abitudine, un po' per pigrizia cucino sempre nella stessa maniera, quindi lo stesso stile, massimo barra uno o due stili. Invece questa volta ho potuto acquisire informazioni nuove, tantissime, tanti segreti e poter sperimentare ogni settimana qualche stile diverso affinché diventi poi anche questo un'abitudine e così la mia cucina diventa più dinamica e più divertente. E volevo ringraziare Sonia per tutto ciò. Grazie!